Noi come associazione siamo vicini alle imprese, l'abbiamo dimostrato in questi mesi, mesi di necessità. Abbiamo firmato anche un protocollo per quanto riguarda le ripartenze con Prefettura e con le organizzazioni sindacali, che ringrazio fin d'ora per la collaborazione che abbiamo avuto. È stata una ripartenza un po' nella confusione, ma tutto sommato è stata una ripartenza che ci voleva, anche se naturalmente il motore bresciano è ancora un motore che viaggia al 50-60%. Un calo della produzione è stimato intorno al 10% rispetto al quarto trimestre del 2019 e questa è la contrazione ipotizzabile per il settore manifatturiero bresciano tra gennaio e marzo 2020 legata al Covid-19. A evidenziarlo sono i primi dati raccolti dall'Ufficio Studi e Ricerche di AIB. In netta flessione la percentuale stimata del fatturato, meno 23%, e delle ore lavorate che toccano il meno 28%. Inoltre l'87% delle imprese sta riscontrando problemi di rallentamento della domanda e per quasi metà delle imprese gli obiettivi per l'anno in corso non sono più raggiungibili. A queste si aggiunge un ulteriore 35% che ha la necessità di rivedere i piani aziendali per il 2020. Le vendite sono in diminuzione sia verso l'Italia, sia verso i paesi dell'Unione Europea, sia verso quelli extra Unione Europea. Veniamo da due mesi difficili, due mesi di fermo praticamente totale. I volumi spediti saranno dal meno 20-30% per cui riguarda quest'anno, per cui sicuramente le aziende quest'anno usciranno con dei bilanci molto diversi rispetto a quelli che è il 2018-2019. Questo diciamo che è l'effetto purtroppo di questo blackout completo. Ad essere maggiormente penalizzati poi sono i settori del metalmeccanico, mentre c'è una maggiore tenuta da parte di quelli definiti più leggeri. Anche il terziario ha segnalato comunque un forte rallentamento, mentre per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel primo trimestre 2020 le assunzioni complessive alle dipendenze realizzate dall'impresa bresciana segnano un'importante battuta d'arresto, meno 11,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il presidente dell'Associazione Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini, ha poi tirato le orecchie alla regione e alle banche. La regione perché non è stata troppo a fianco delle imprese, mentre alle banche perché non possono essere così assenti. Insomma, bene, ma si può fare di più. Qualcosa di buono c'è, ci aspettavamo forse qualcosa di più, quello che riguarda molto l'automotive, che è un settore molto importante per quello che riguarda Brescia. Qualcosa di più avremmo voluto vederlo per quanto riguarda l'eco bonus, magari sull'Euro 6, e non solo parlare di elettrico, e soprattutto anche riguardo un po' le opere pubbliche. Dobbiamo naturalmente sbloccare una serie di opere pubbliche. Ci sono 35 miliardi pronti, finanziati, per poter ripartire con queste opere. È molto importante. Noi pensiamo che la via del commissariato sia la via che si può sbloccarle. Il Ponte Morandi è un esempio, un modello, che se in Italia si vogliono fare le cose in maniera veloce, siamo in grado di farle. Purtroppo moriamo di burocrazia e moriamo di ricorsi al TAR. Ci sono tante altre cose, ci aspettavamo forse qualcosa di più anche da parte dell'Europa. Inoltre c'è grande necessità di investire nella digitalizzazione.